Riuscite a immaginare un mondo senza creatività? Pensateci, lui non sarebbe nessuno, neanche lui, e neppure loro. I tuoi libri preferiti non esisterebbero. I supereroi più amati sarebbero persone normali. I film che ti hanno sempre fatto sognare, niente. I film brutti, nemmeno. E ancora, niente sculture, niente poesie, niente canzoni indimenticabili, niente auto meravigliose, niente pizza. Niente tecnologia, niente innovazione, niente siti web originali, niente grafica accattivante, niente marketing estroso, niente video spettacolari. Già, ma per fortuna il mondo è pieno di creatività e tu puoi supportarla acquistando arte digitale. Già, ma per fortuna il mondo è pieno di creatività.